ragazzi cominciamo un nuovo progettino allora il nuovo progetto è così fatto allora come vi ricordate tempo fa avevamo fatto quel ripostiglio per poter mettere dentro il generatore che chiaramente ormai non adoperò quasi più quindi mi è rimasto un vano ora essendo che mi è venuto in mente di vediamo se ce la faccio abbinare al frigo che abbiamo un frigorifero di quelli a pozzetto portatile quindi dovrò creare un vano in questa posizione poi ora vi faccio vedere sotto che abbiamo dello spazio inutilizzato quindi in maniera tale da poter mettere il frigo in questa posizione bene questo è il progettino che andiamo a eseguire allora come prima cosa dovrò prolungare questo piano e lo dovrò appoggiare in questa posizione in maniera tale da creare il vano che ci interessa e nello stesso tempo deve tirare e supportare diciamo il peso delle mensole che ci sono sopra grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.